L'orto si chiama la milpa orto collettivo. Milpa vuol dire il posto dove si coltiva in lingua steca. La milpa orto collettivo, il nome è milpa perché vuol dire il luogo dove coltivi che è náhuatl. Náhuatl sarebbe asteco, la lingua asteca, degli indigeni indiani americani e messicani. L'abbiamo chiamato così perché a un certo punto hanno chiesto a mia moglie come avrebbe detto il nome di questo posto qua. Mia moglie è nativa messicana, maya yucateca e quindi quando gli hanno chiesto hanno detto chiamiamo milpa. Siccome è un nome simpatico allora ho iniziato a fare le etichette per le cose con scritto la milpa. Nel concetto diciamo della cultura maya sei un tutt'uno con la natura. Quando coltivi stai qua, curando tua madre, la madre terra. E allora l'orto è quello. È la madre terra e stai pensando a quelli che vengono dopo e stai pensando alla società. Non pensi solo a te stesso. Qua in Italia magari potremmo chiamarla permacultura. È un nome che va bene in cui ci ritroviamo. e quindi quando abbiamo scelto la milpa come nome è rendere omaggio delle persone che hanno coltivato, che continuano a coltivare e se coltivano nel modo ancestrale, come faceva per esempio il nonno di Dulce, come gli ha insegnato, la terra non finisce, non ha questo problema. Perché sono persone che non hanno mai inquinato. Le persone che dicono che i maya devastano le foreste o fanno cose così, non è assolutamente vero. Perché esiste il rosa, tumba e chema. Cioè tagliare un pezzo di foresta, dare fuoco per coltivare. Però è una cosa transitoria, molto piccola e poi prima di andare via si selezionano già gli alberi che diventeranno grandi e poi ci si sposta. All'inizio quando siamo nati sei anni fa non avevamo neanche un nome, no? Perché eravamo in un altro posto e abbiamo iniziato lì. Era un posto dove c'erano problemi di acqua. Era un posto dove una persona aveva detto ve lo presto, voi coltivate un po' e poi vediamo, no? L'anno successivo lui ha deciso di riprendersi il pezzo di terra per cui noi ci siamo spostati qua. Adesso sono cinque anni che siamo in questo pezzo qua. Questo pezzo è un pezzo della cooperativa Il Casolare di Piasco, una cooperativa di tipo B, che ce lo affitta tutti gli anni l'uso del suolo e l'acqua per irrigare. Il paese dove siamo si chiama Piasco e è ai piedi del Monviso in una valle che si chiama Valle Varaita. Piasco non è un posto famoso a meno che non suonate l'arpa. C'è un museo dell'arpa e c'è una fabbrica di arpe, famosissima, in tutto il mondo, per cui le persone vengono a Piasco per l'arpa. Noi speriamo che vengano a Piasco anche per la nostra realtà. Speriamo che vengano a Piasco anche per la nostra realtà. Il pezzo è indiviso. Noi siamo un orto collettivo perché non c'è come negli orti comunali o queste cose qua, ognuno ha il suo pezzo di terra e poi inizia a guardare che il vicino non gli prenda lo zucchino, queste cose. Noi in questo posto qua abbiamo detto questo è tutto insieme, è un collettivo e abbiamo pensato che ognuno prende per le esigenze che può, che ha bisogno. Quindi una famiglia da quattro prenderà di più che un single e ognuno dà il contributo che può in termini di lavoro. Non c'è un orario in cui venire. Ci sono persone a cui piace venire tutti insieme, quindi magari facciamo il sabato tutti insieme oppure la domenica, cose così. Però poi ci sono delle persone che invece vengono veramente per staccare, per cui più o meno chiedono sul gruppo cosa c'è da fare oppure un po' man mano che andiamo avanti abbiamo imparato le cose che sono da fare e lo fanno. E magari uno gli piace rilassarsi e sta da solo, quindi viene qua da solo e fa. Oppure invece dice no, voglio che ci sia più gente e quindi viene con gli altri nei momenti collettivi. Uno la racconta così, dice ma allora ci saranno dei giorni dove non c'è nessuno e quindi se non c'è nessuno andrà tutto a rotoli. Però sono sei anni che non succede perché comunque c'è sempre qualcuno. La gente che fa parte dell'orto sente questo come un po' magico perché subito c'è no ma ci sarà gente oppure no ad agosto andiamo tutti in vacanza. Però non succede così perché andiamo tutti nello stesso momento. C'è gente che parte, c'è gente che torna e alla fine essere tanti la milpa è 2500 metri quadrati. C'è un surplus di produzione molto grande. Probabilmente per 30 persone quelli che sono precisissimi dicono potreste coltivare in molto meno spazio. Però il fatto che ci sia spazio è il fatto che può venire molta più gente. Se viene molta più gente alla fine la conduzione funzionerà. Fondamentalmente nell'orto c'è bisogno di venire tutti i giorni. Quella è la verità. Però è molto bello la libertà di poter decidere quando venire e quando no. Sono due cose che uno deve abbandonare se viene a far parte dell'orto collettivo che comunque è aperto ad accogliere altra gente. Sono uno, il possesso di un pezzo. E due, io faccio più di te. Quindi io ho diritto a raccogliere più di te. Queste due cose qua non puoi stare in un gruppo così con questo tipo di atteggiamento. Perché qua ognuno fa quello che può fare. Tutti abbiamo un altro lavoro. Di contadini qua non ce n'è nessuno. L'unico contadino che c'è è una persona che viene e con cui abbiamo fondato l'orto. Però viene saltuariamente perché ha un altro orto collettivo a Carmagnola con cui siamo gemellati. Noi usiamo, in quest'orto qua usiamo prodotti naturali, i propoli, i macerati, il compost, lo stallatico. Oppure le micro rizze che tiriamo fuori con trappole di riso, insomma queste cose qua e poi le mettiamo. La verità è che questa terra qua è molto fertile. La verità è che molte volte ci sono delle cose che cadono e quindi perché non riusciamo a raccogliere e magari si concima anche un po' per conto suo. Quindi dal 2006 abbiamo iniziato a fare questa cosa qua e ognuno ha portato la sua esperienza come persona. Ci sono persone che hanno professionalità completamente diverse perché alla fine questa cosa qua è per stare insieme. La parte di zappiamo insieme, coltiviamo insieme è una parte importante. Però la parte di socialità, cioè mangiamo insieme, facciamo la marmellata insieme, facciamo una gita insieme, facciamo una festa, la festa di compleanno o una festa, abbiamo fatto delle feste che si chiamavano la milpa sonora con concerti. abbiamo un palco, tipo domenica sera abbiamo un compleanno e ci sarà un concerto e quindi quella parte lì è importante. per quello che vedete nell'orto non solo la parte di orto ma vedete anche per esempio il bagno che è un compost toilet, la doccia solare, il tendone, il palco, il bar, il lavaggio delle stovine. Per quello che vedete nell'orto non solo la parte di orto ma vedete anche per esempio il bagno che è un compost toilet, la doccia solare, il tendone, il palco, il bar, il lavaggio delle stovine. Queste cose qua sono perché se no andresti in un luogo, zappi, poi non puoi andare al bagno, non puoi lavarti, non puoi fare nient'altro che zappare. E questo è molto più difficile avvicinare le persone non agricoltori, non contadini a fare questo tipo di attività perché comunque la terra è bassa e quindi il lavoro è difficile. Noi non abbiamo grossi macchinari, quando abbiamo dovuto lavorare un po' il terreno, non arare solo in superficie, la cooperativa alcausolare ci ha aiutati. E poi col fatto di essere diventati associazione abbiamo avvicinato molta più gente perché a un certo punto quando c'è stato il lockdown del coronavirus, noi che comunque il surplus dell'orto lo abbiamo sempre dato alle persone che non arrivavano a fine mese, diverse fragilità sociali. Avevamo appena fondato l'associazione che è un'associazione iscritta al welfare e alla fragilità sociale che si chiama Spazio Vitale ed era un'associazione che c'era dal 2003, abbiamo rifatto lo statuto. Questa cosa qua ha dato tutto un lavoro tra tutti quanti di riscrivere uno statuto per andare avanti e poi abbiamo deciso di aprire in centro al paese un emporio di comunità dove anche stamattina e domani mattina insomma distribuiamo viveri che recuperiamo dai supermercati, dalle collette alimentari, cose in scadenza così, attendendo che ci sia della produzione dell'orto e quindi il surplus di questo verrà portato all'emporio di comunità. abbiamo aperto anche un armadio della gentilezza dove le persone possono posare quello che vogliono donare e prendere quello di cui hanno bisogno. Abbiamo fatto uno scambio baratto di vestiti, uno swap party si chiama così, le persone dicono perché non ne fate uno al mese? però c'è tanta energia da mettere e comunque qua ce n'è un resto, ci dobbiamo dedicare anche all'orto. Però l'emporio è praticamente un figlio dell'orto, nasce in un contesto di socialità e che ci aiutiamo tra di noi, però decidiamo anche di farlo con gli altri e farlo non qua ma pubblicamente, che è una cosa nuova anche per noi. Abbiamo parlato della nostra realtà al Rive, facciamo parte anche di una realtà che si chiama Sidvicius per lo scambio di semi, l'associazione di semi adipa, andiamo al mandillo di semi di asci, tutte le realtà che penso che le persone che ascoltano abbiano già sentito in contesti diversi. Ci piace fare rete perché dalla rete delle persone, delle buone intenzioni escono uno idee, persone che si spostano e vengono a trovarci e soprattutto i semi che è una delle cose più importanti perché qua abbiamo una biodiversità e una varietà di semi un po' da tutta Italia e da tutto il mondo e quindi ci piace questa cosa qua di scambio e le realtà che ho citato sono quelle che nelle loro forme lo fanno e condividono. Vogliamo fare una banca dei semi che abbiamo perché noi dobbiamo, così le persone quando vengono troveranno uno scaffale per poter prendere. e la stessa cosa stiamo collaborando con le scuole della valle qua, le scuole elementari e l'asilo perché vengano qua e abbiano i semi o abbiano i piantini da portare nella loro scuola. Loro hanno un orticello là però è anche stato bello perché loro avevano fatto delle piante e l'altro anno invece per esempio i bambini dell'asilo sono venuti qua e hanno raccolti i pomodori. In quest'orto qua ci sono 30 persone che collaborano e infatti quando facciamo le feste noi siamo tanti già di noi. insomma quando abbiamo fatto la festa del mais per esempio facciamo una festa che si chiama la festa del mais per il raccolto del mais. Quindi raccogliamo il mais che ho dietro di me lo spannocchiamo a mano e facciamo le ceste e poi facciamo una cosa di ringraziamento del raccolto ringraziando i cinque elementi con il fuoco come fanno i maya. e quindi c'è un altare con i colori e poi c'è un cerchio della parola dove tutte le persone che partecipano a questa cosa qua dicono le loro intenzioni di ringraziamento del raccolto e per il prossimo anno e poi si mangia e si balla. è una cosa che facciamo da quattro anni e ci piace tantissimo perché è una delle feste in cui si apre proprio tanto a gente che arriva un po' da ovunque. Per esempio un gruppo grande sono gli studenti dell'università di Pollenzo di scienze gastronomiche con cui abbiamo una buona relazione perché è loro che fanno delle missioni in giro ci portano dei semi e ne prendono qua e quindi ogni tanto abbiamo delle persone che vengono per capire un attimo determinate coltivazioni come si comportano anche loro hanno un orto all'interno dell'università però vengono qua a fare un po' di esperienza. Noi siamo in un posto da sei anni stiamo qua semplicemente giriamo le coltivazioni una volta di qua una volta di là però usiamo per esempio i tipi di macerati quelli per i parassiti usiamo i macerati per esempio per per la facciamo la consociazione cioè nel mais ci sono i fagioli e la zucca insieme no? oppure oppure facciamo altri tipi di consociazioni tra le piante no? e abbiamo una grossa fortuna al posto di altri posti perché noi possiamo coltivare per esempio un po' più in fila no? non coltiviamo in ordine sparso però quando vediamo che una pianta si adatta in un posto che non è dove l'abbiamo seminata non la togliamo per cui ogni tanto magari in mezzo ai pomodori vi trovate una pianta di costine oppure magari in mezzo al mais troviamo il tomatillo che è il pomodoro verde messicano non l'abbiamo messo lì è venuto da solo e non lo togliamo perché pensiamo che sta bene dov'è no? ed è più o meno come coltivava il nonno di mia moglie che era un guardiano di semi e quando ci ha lasciati ci ha lasciato molti dei mais che ritroviamo qua dentro la nostra milpa come per esempio quando abbiamo iniziato non avevamo l'irrigazione allora facevamo come gli egiziani no? chiudavamo la bialera e poi allagavamo tutto fino quindi avevi dei posti dove c'era un pantano e dei posti dove non era arrivata l'acqua perché non era in piano poi man mano che cresceva, man mano che si è giunta le persone le persone mettono una quota di 50 euro all'anno per far parte dell'orto e quindi con questa quota qua con qualche festa benefit per l'orto col concerto queste cose qua abbiamo fatto un sistema di irrigazione quando c'è da irrigare i fagiolini o i pomodori le persone vengono qua attaccano un tubo aprono il rubinetto si raccolgono due verdure oppure si siedono leggono un libro fumano una sigaretta e aspettano che si bagna e poi richiudono e vanno a casa no? alla fine vieni qua c'è tranquillità nonostante siamo in un contesto ai limiti del diciamo della della zona artigianale ed è anche più fresco che altri posti perché la corrente che viene dalla valle in questo posto spinge sempre abbastanza facciamo lo scambio anche no? per esempio adesso abbiamo le fragole la cosa bella è che io vado in ferramenta al paese vicino da eligio e lui io gli do le fragole e lui mi da le viti i tubi no? facciamo questa cosa qua ed è molto interessante il fatto che la gente gli piaccia fare questo no? non è solo una cosa di moneta perché io potrei vendere le fragole e poi con i soldi andare a comprare i tubi invece andare a comprare i tubi con le fragole è molto bello quando abbiamo i pomodori carichi qua coltiviamo più o meno un 100 tipi di pomodori diversi abbiamo dai pomodori zebra ai pomodori gialli ai pomodori bianchi rosa viola neri insomma e quando abbiamo un surplus di pomodori allora decidiamo di fare la passata per cui arrivano le persone che hanno tempo quel giorno lì di fare la passata e quindi mettiamo i fuochi cuociamo insieme imbottigliamo e poi le persone che non sono potute venire trovano le bottiglie lo stesso logicamente le persone che hanno una famiglia un po più grande gli diamo un po più di bottiglie che lì non è una divisione è che le bottiglie che escono ognuno prende quelle che sono lì nel mucchio e le persone prendono quelle che pensano di averne bisogno no? non abbiamo mai avuto nessuno che approfittava e come non abbiamo mai avuto non lo so non c'è mai stato nessuno che non viene mai e poi viene solo a prendere io per esempio oggi non poteva venire un nostro amico che è un pittore insomma e lui ci teneva che srotolassi il suo disegno perché lui mi ha detto che si chiama la massa del prato io non l'ho fatto lo faccio dopo però era il modo in cui lui diceva io non ci sono però volevo essere presente anche per tutti quanti no? e gli altri invece siamo abbastanza qua insomma io penso che molte molte associazioni molti collettivi molte associazioni hanno uno delle persone che vogliono fare il leader no? e invece qua è una cosa che ognuno siccome c'è un'inesperienza diffusa di base non ci può essere una persona che sa più dell'altro tutti magari guardano un po' i video su youtube e dicono ho visto che hanno piantato le carote in quel modo lì no? allora poi viene e ti dice una cosa allora il fatto di essere partiti un po' tutti allo stesso livello no? e il fatto che le idee le condividiamo insieme e l'altra cosa è che non ci sono le regole io penso che quando ci sono le regole le persone gli piace trasgredire siccome qua non ci sono se non la regola diciamo della solidarietà del buonsenso del compagnerismo con le persone con cui stai che stai facendo una cosa che non è solo per te le persone si comportano bene la riflessione che ho fatto perché ho fatto tante associazioni tanti collettivi questa è una famiglia perché le persone poi si aprono e raccontano cose che magari non hanno mai raccontato e ci vuole un po' di tempo l'altro anno per esempio abbiamo fatto una capanna sudatoria e dopo la capanna sudatoria è stata un'apertura enorme pensiamo di rifare la capanna sudatoria perché anche rifare la capanna sudatoria e soffrire tutti i seduti attorno al fuoco e sudare è una cosa che fa gruppo e costruirla insieme fa gruppo e la stessa cosa come abbiamo pensato di portare questo questa cosa qua che ci hanno questo container che ci hanno regalato questo cassone isotermico perché dentro il cassone isotermico abbiamo pensato che dovevamo avere uno spazio per la cucina un po' più bello e soprattutto la cosa importante noi pensiamo che il lockdown e il coronavirus ha mosso molta solidarietà sono persone che magari si sono abbruttite però ci sono anche molte persone che si sono molto si sono proprio aperte e quindi anche le collaborazioni oppure i doni che ci hanno fatto sono venuti nel momento in cui le persone si sentivano più sole noi abbiamo fatto una lotta molto forte nel periodo di chiusura qua perché il ministero diceva che gli obbisti non potevano coltivare e allora noi abbiamo fatto lo stesso perché siamo associazione di volontariato iscritta al welfare sociale e questo è stato puramente una fortuna perché se no probabilmente saremmo stati chiusi in casa invece quando tutti erano chiusi in casa noi eravamo qua con la distanza sociale si poteva tranquillamente tenere perché l'orto è molto grande però eravamo qua e quindi eravamo tutti insieme facendo una cosa che ci sembrava molto bella noi siamo partiti da in sei e poi man mano passavano gli anni no le persone sono entrate in contatto in modi diversi no uno perché comunque anche in sei andavamo in giro c'era delle persone che venivano a raccogliere le cose in eccedenza o andavamo in giro semplicemente a parlare della nostra realtà oppure ci cercavano perché noi avevamo dei semi di mais particolari o dei pomodori particolari no o delle melanzane come queste melanzane qua che sono africane no e quindi piano piano le persone si sono avvicinate nel paese di Piasco ci sono solo due persone, quattro, quattro che partecipano all'orto no gli altri sono dei paesi vicini e l'hanno saputo perché per casualità oppure perché sono venuti qua alla Milpa Sonora c'era un bel concerto oppure alla festa del mais alla festa del mais nessuno torna a casa senza niente tutti raccolgono i pomodori tutti quelli che vengono portano a casa qualcosa o portano a casa dei semi e quindi l'anno dopo hanno detto voglio anch'io far parte di questa cosa qua cioè piano piano le persone sono cresciute in quel modo lì con gli anni no il fatto delle collaborazioni alle scuole perché siccome ognuno di noi fa lavori diversi allora abbiamo le educatrici, abbiamo le maestre, abbiamo gli psicologi, abbiamo gli elettricisti abbiamo gli idraulici, i fuochisti come io lavoro in una centrale elettrica e quindi c'è un po' una varietà di persone che poi sul posto di lavoro parla e magari porta in dono sale alle erbe, la passata di pomodoro, due fragole, così c'è un orto collettivo a Carmagnola che si chiama Campo Felice che nasce molto prima di noi siccome è a Carmagnola e uno di loro però vive qua, due di loro vivono qua allora quando abbiamo fatto gruppo hanno detto perché non lo facciamo insieme e poi Carmagnola fa frutta, piccoli frutti, fa piccoli frutti, mele, pere e susine insomma fa anche canapa perché è dentro il terreno di Felice, si chiama Campo Felice perché è Felice il proprietario dei terreni che è stato il fondatore e il presidente di Asso Canapa se dobbiamo trovare l'ispirazione di perché abbiamo deciso di fare questa cosa qua è venuta dal fatto che Campo Felice lo faceva già e dal fatto che quando io e Dulce siamo tornati dall'esquelita zapatista in Chiapas nelle comunità autonome abbiamo avuto un'esperienza di lavoro collettivo e di socialità molto forte nelle comunità perché loro sono indigeni maya che vivono nelle comunità del Chiapas e sono anche zapatisti l'organizzazione zapatista prevede che hai una parte che è tua e una parte che è collettiva e con la parte collettiva fai funzionare le scuole, gli ospedali, i trasporti a me è piaciuto tantissimo andare per esempio a pulire il campo, eravamo 50 persone col macete dovevamo tagliare un prato pieno d'erba, Dulce per esempio è andata a raccogliere i fagioli il fatto di lavorare insieme ci è venuto a questo slancio qua di dire non ho più voglia di coltivarmi i pomodori sul balcone di casa, io vivo in un appartamento, i pomodori li facevo sul balcone di casa con un secchio che simulava la cinampa messicana con una riserva d'acqua però volevamo un pezzo di terra che non avevamo, è stato molto più semplice mettersi insieme e prendere un pezzo di terra tutti insieme che andarmi a cercare un pezzo di terra e star da solo non nell'alloggio, per me l'Italia che cambia è ristabilire le relazioni umane tra le persone, riscoprire il dono e buttare giù un po' di muri tra razzismo e omofobia e differenza di generi, io sono fiducioso che di realtà che vogliono fare diversamente ce ne sono, questo è un progetto agricolo però è sicuramente un laboratorio sociale molto grande, porta anche a prendersi cura delle altre persone.